Buongiorno, Piero Pio Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è martedì, 13 febbraio 2024. Innanzitutto volevo spiegare a coloro che mi hanno iscritto su YouTube che purtroppo dalla conferenza di Terni non si sente molto bene l'audio. Beh, noi, con l'audio, con il video, è stato montato da una gentile signora di Terni e quindi è stato praticamente montato, grazie a Dio è stato montato anche così. Purtroppo noi non abbiamo tecnici che si possano occupare di queste cose. La nostra è stata una testimonianza così di persone dilettanti e quindi abbiamo fatto il possibile. Ringraziamo ancora quella signora che è riuscita a registrare il video e purtroppo non riusciamo sicuramente a migliorarlo. Comunque, adesso volevo parlarvi di altre cose. Volevo farvi vedere da una conferenza di Luigi Gaspari che fece, adesso non mi ricordo, forse nel messaggio di Capodanno di Gioia del Col. Vedete, in questo libricino io ho riportato tanti sui scritti e me li sono fotocoppiati e mi sono fatto un libricino. Ecco. Vedete, vi leggo questa parte dove dice Padre Pio diceva a tutti noi che il demonio è come un cane alla catena che può abbaiare ma non mordere se noi con la nostra volontà gli stiamo lontano. Stare lontano da Satana significa abbracciare l'amore di Dio e la sua volontà e allora tutto diventa bello, tutto diventa buono, tutto diventa accettabile, anche la sofferenza che il mondo ci riserva sarà trasformata in gioia perché Dio è gioia, Dio è amore e permette la sofferenza non perché Lui la voglia ma perché vuole dare tempo anche a coloro che non conoscono e non lo amano di ravedersi e di tornare con libera volontà al suo amore. Se tutti gli uomini amassero Dio la sofferenza sparirebbe dalla terra ma noi purtroppo, anche se abbiamo l'amore di Dio nei nostri cuori dobbiamo partecipare a questa sofferenza che è la mancanza di amore di troppi uomini. Perciò quando noi vogliamo fare del bene a noi stessi quando noi vogliamo fare dove è finito quando noi vogliamo fare del bene a noi stessi vogliamo uscire da una forte sofferenza e vogliamo uscire da una forte sofferenza non dobbiamo pensare più a noi ma guardarci intorno e vedere tante anime e tanti uomini che soffrono meglio e più di noi. Allora quando noi diventeremo apostoli d'amore anche la nostra sofferenza sarà trasformata in letizia perché Dio vuole donare la sua gioia a tutti e non a pochi. Ecco il perché delle nostre grandi sofferenze ecco il perché delle nostre grandi sofferenze che ci sono perché molti non credono e non amano la volontà di Dio e perciò sono vittime e sono in preda al nemico infernale e questo nemico porta sofferenze e divisioni intorno a noi. Torniamo allora alla missione di questo grande profeta che è Padre Pio che è venuto perché l'umanità aveva dimenticato tutto ciò che è il disegno di Dio per salvarla definitivamente da questo pericolo mortale che è l'assalto di Satana che si manifesta nelle varie nazioni della Terra travestito in varie maniere soprattutto nella famiglia vediamo la proprio famiglie disastrate figli buttati qua e là che non ricevono un'educazione questa generazione è uscita proprio da ogni immaginazione vedete oggi per esempio un grande pericolo che Padre Pio profeta ha segnalato a me e a molti che li sono stati vicino era il pericolo di un ritorno alle guerre di religione specialmente la guerra dell'Isa che è nemico di Cristo e del cristianesimo questi uomini che a voi oggi fanno tanta pena questi arabi musulmani sono vittime di un'ideologia sbagliata perché l'Islam non riconosce Cristo come Dio ma lo vuole imporre come un profeta uguale a Maometto ma San Giovanni nella seconda lettera ci ha detto tutti quelli che non riconoscono Cristo come Dio sono l'anticristo e non li ricevete in casa né li salutate perché chi li saluta partecipa alle loro opere malvagie ora noi dobbiamo amare questi nostri nemici nella fede in Cristo però non dobbiamo assorbire il loro spirito negatore del primato di Cristo che deve essere l'unico re dell'universo questo pericolo dell'invasione della religione islamica in Europa molti non sanno vederlo ma Padre Pio lo intravvide nel lontano 1967 quando ne parlò a me e mi disse che il maggiore pericolo per l'umanità veniva proprio dall'Isa perché esso si propone di scristianizzare l'Europa e il mondo e di far trionfare il segno di Maometto ecco a diritto il 1987 aveva visto tutto e di fatti noi stiamo vivendo questo periodo e il pericolo più grave adesso probabilmente sta a Roma e noi capiamo anche per chi ecco adesso vi voglio leggere qualcosa del mio libro che potete trovare scusate non in edicola in libreria o richiedere su Amazzo un padre Pio il terzo segreto di Fatima di Piero Drioli Luca Serafini e Daniele appunto in libreria o su Amazzo richiedono o su ebay ecco padre Pio nel 1996 quindi 28 anni dopo la sua morte ha voluto dare una prova tangibile dell'importanza di questo libricino manifestandosi in una foto scattata da sua Marta Lombardi nella cella vuota seduto sulla poltrona con in mano il quaderno un libricino e visto che noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere Luigi Gaspari molto prima di questa foto abbiamo capito che appunto il libricino è il quaderno dell'amore che porta la gioia e l'amore in ogni cuore che voglia accettarlo con amore ha voluto darci un messaggio ognuno è libero di credere ciò che vuole io come suo figlio spirituale di padre Pio ho avuto la fortuna di poter testimoniare questa importante verità insieme ad altri abbiamo potuto constatare di persona la forza che possono trasmettere queste parole di amore di Giovanni scritte per mano del figlio spirituale di padre Pio Luigi Gaspari padre Pio diceva queste parole avrebbero salvato il mondo e la chiesa da questa tempesta in cui si trova in questo momento questo libricino ci porterà nell'ultima parte del terzo segreto di Fatima che poi è anche più bello cioè l'entrata nell'era dell'amore questo libricino è stato è dentro il terzo segreto di Fatima perché il terzo segreto di Fatima non è un segreto sono solo l'avverarsi delle sacre scritture e questo libricino fa parte del decimo capitolo del libro dell'Apocalisse Cristo vuole regnare tutti coloro che lo amano regneranno insieme a lui il ritorno di Cristo ci sarà il suo ritorno tra noi poveri peccatori sofferenti è imminente non dobbiamo farci trovare re impreparati ecco questo è il mio libro appunto che potete trovare in libreria e adesso voglio leggervi qualcosa del padre Pio profeta dell'era dell'amore di Luigi Gaspari vedete padre Pio dell'era dell'amore di Luigi Gaspari dopo che avevo scritto il quaderno dell'amore dice Luigi Gaspari padre Pio mi spiegò e chiarì il perché Pietro ha ricevuto da Gesù Cristo il potere di battezzare le genti di radunarle di legare e di eslegare ma Gesù ha dato solo a Maria Santissima e a Giovanni il dono della parola e dello spirito d'amore e del suo regale cuore capace di riunire le genti chiamate e battezzate dal pastore della chiesa Pietro poi padre Pio aggiunse è necessario che il quaderno dell'amore giunga il più presto nelle mani di sua santità il papa Paolo VI il papa si aglieterà e confermerà tutto al mondo perché sa già che questa è la verità poi anche lì per colpa di mal informati purtroppo Paolo VI non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare anche la Madonna Parsa Fatima lo aveva preannunciato la conversione a Dio potrà avvenire solo nell'amore in seguito il papa Paolo VI mi confermò tutto quanto aveva detto padre Pio e aggiunse non è ancora il momento di testimoniare al mondo intero come dice padre Pio queste verità perché gli uomini ti farebbero del male riferendosi a Luigi Gasperi e ti contesterebbero come contestano me il papa vedete poi infatti hanno contestato Luigi Gasperi perseguitandolo molto come hanno fatto con padre Pio in confessione padre Pio come ho già detto mi ripeteva spesso la carità e ordine e un giorno mi spiegò nell'ordine della volontà autorità prima c'è Dio poi il papa e quindi il papa deve sottostare agli ordini di Dio quindi deve portare l'amore di Dio di Giovanni che è l'apostolo dell'amore prediletto di Gesù e non il suo e il papa riceverà tanta più autorità da Dio quanto più riconoscerà la piena volontà delle parole del Vangelo di Cristo senza mai cedere a compromessi con le bugie degli uomini e diavoli soprattutto i compromessi perché l'unica verità è Gesù Cristo poi il padre aggiunse nell'ordine nell'ordine di potenza dell'amore e regalità prima prima c'è Dio Gesù Cristo c'è Maria Santissima poi c'è Giovanni e infine in questo ordine l'amore arriva alla Santa Chiesa e al popolo di Dio un giorno chiedemmo a padre Pio come fa lo spirito santo a scegliere il papa giusto fra tanti cardinali il padre disse lo spirito santo manifesta una prima volta i cardinali riuniti in conclave e la scelta del cardinale più idoneo però lascia la libertà ai cardinali per l'autorità che ricevettero dallo spirito santo di scegliere come papa un altro cardinale che non è quello indicato dallo spirito santo in tal caso ti avrà un papa sempre valido però umanamente sarà più debole e non riuscirà ad avere tutta la volontà autorità che gli vuole conferire il santo spirito un giorno voglio chiedere a padre Pio un po' di luce sulle discussioni che si facevano a Roma intorno a papa Giovanni XXIII padre Pio così mi rispose il papa è il papa cioè deve essere Pietro poi aggiunse Pietro è dopo Dio l'autorità della Chiesa però Pietro non è e non deve essere anche Giovanni però Pietro ha ricevuto piena autorità per separare i lupi dalle pecore e gli ordini e gli agnelli dall'ovile poi sarà la bontà l'amore di Gesù Maria e Giovanni che potrà tenere unito in un solo corpo gli uomini fedeli e obbediente al santo Vangelo e alla Chiesa Cristo Dio ha detto il mio regno non è di questo mondo perché il padre diceva che il Signore Gesù venne sulla terra per ridonnare il regno della terra all'adamo nuovo per inunire cielo e terra in un unico regno di Dio però sempre lasciando all'uomo il regno terrestre quindi come ho detto cielo eterno saranno riuniti e probabilmente riusciremo anche a vedere i nostri cari che sono trapassati nella nuova era dell'amore quando trionferà il Sacro Cuore Immacolato di Maria ecco adesso vi faccio ancora una parte del libro dell'Apocalisse di Don Dolindo Ruotolo Sacra Scrittura San Giovanni dell'Apocalisse vedete noi siamo ancora nella sesta epoca della chiesa e per coloro che appunto non aspettano il ritorno intermedio di Cristo forse non hanno capito le parole non conoscono la verità di Padre Pio e del libro dell'Apocalisse di Don Dolindo Ruotolo al suono della sesta tromba che annuncia il fagello di una guerra disastrosa e crudele vedete siamo alla vigilia veramente di quello che parla questo libro dell'Apocalisse che uccide la terza parte degli uomini abbiamo visto succedere nel capitolo precedente una visione che interrompe il racconto la visione dell'angelo forte che porta al libricino e dandolo a Giovanni perché lo divorasse gli annuncia che deve profetizzare ancora di nuovo a molti genti popoli e re il periodo della predicazione che sarà di preparare al regno di Dio e al trionfo della chiesa in terra culminerà in un libro aperto non sigillato perché in esso incominceranno a decifrarsi i misteri del regno di Dio sia per una maggiore precisione e chiarezza nell'insegnamento dei dogmi e della chiesa che sta per la spiegazione più chiara dei misteri nascosti nella sacra scrittura cioè che è in tutto il suo complesso mirabile il libro dei misteri di Dio libro grande per i piccoli uomini della terra ma piccolissimo nelle mani dell'angelo innanzi al cui luminoso intelletto i misteri del regno di Dio sono grandiosamente illuminati e chiari nell'immenso libro aperto della divina gloria libro dolce alla bocca e amaro al ventre perché nel gustarlo ha mille segreti di sorprese dolcissime di verità ma nell'applicarlo alla vita alimentando la propria anima produce necessariamente una lotta tra lo spirito e la carne tra l'uomo spirituale e l'uomo che forma del ventre e della vita materiale e suo idolo questo libro piccolo piccolo anche innanzi al mondo che apprezza solo le sue interminabili serie di volumoni più o meno asfissianti reso dolcissimo dall'anime dolce e codice di vita spirituale contrastante con quell'animale sarà la base principale della predicazione della verità alle genti ai popoli e produrrà tale rinovellamento nella vita cristiana da poter so ormai misurare determinare il numero dei veri adoratori di Dio ecco questo è il libro dell'apocalisse di Don Dolindo e vi leggo ancora un qualcosa del quaderno dell'amore ecco qua cosa dice ci dice Gesù la vostra vita potete viverla nella maniera che più vi è gradita le strade sono tante se lo volete posso consigliarvi la strada più facile meno rischiosa e più bella per voi non importa a me l'occupazione e lo stato che volete scegliere importante è che mi teniate a guida dei vostri passi vedete voi potete fare qualsiasi lavoro anche il più rischioso verso la salvezza dell'anima ma se noi mettiamo al primo posto Gesù ecco che allora tutto si appiana e tutto va nel miglior modo possibile qualsiasi sia la nostra occupazione io eviterò a voi i pericoli che non potete vedere con i vostri occhi le insidie dei vostri e dei miei nemici le conosco tutte i beni che cercate a volte già li possedete e non lo sapete sono a portata di mano occorre un intervento mio per aprirvi gli occhi tutto quello che ho riservato voi spesso non riuscite a possederlo perché i vostri scaltri avversari o lo nascondono oppure tentano di rubarlo chiedete a me io vi dirò tutto quello che è vostro impedirò che gli altri si usurpino quello che vi appartiene ecco devo ricordare che appunto nelle precedenti giorni nei giorni precedenti ho inserito le conferenze di i terni che abbiamo tenuto le testimonianze io la dottoressa Esther Maddaloni che parla appunto di aver conosciuto Luigi Gaspari nel 1999 a San Giovanni Rotondo durante una sua visita a un paziente all'ospedale sollievo della sofferenza e di averlo incontrato e aver parlato con lui e questo uomo gli ha parlato del quaderno dell'amore dell'amore di Cristo e poi dopo lei e gli aveva promesso che avrebbe guarito il figlio che era ammalato appunto da seriamente ad un occhio e infatti dopo pochi giorni questo bambino guarisce tornando a casa la cosa più bella che quando lei in un baule della casa del un baule del marito trova il quaderno dell'amore e riconosce anche dalle foto che quell'uomo era Luigi Gaspari telefona a Bologna e gli risponde Silvio Causo e gli dice io farei parlare volentieri col dottor Gaspari ma il dottor Gaspari è mancato quattro anni fa quindi questa donna Luigi Gaspari il dottor Luigi Gaspari è apparsa questa donna quattro anni dopo nel 1999 perché lui è morto il 18 novembre del 1995 giorno del compleanno di mia mamma gli è apparso e suo figlio è guarito come lui gli aveva promesso e gli ha detto al bambino un giorno mi rivedrai e mi riconoscerai perché in questo fine della sesta epoca della chiesa Elia Giovanni Battista che era padre Pio lo spirito padre Pio aveva lo spirito di Elia e del Battista Luigi Gaspari aveva lo spirito di Davide e Giovanni e io penso anche di Enoch perché lui in un sogno mi ha detto ah Piero sono tornato ecco avevano lo spirito di Davide Giovanni ed Enoch questi due grandi profeti sono pronti per combattere l'anticristo e per portarci nella nuova era dell'amore che padre Pio ha promesso ai bambini più grandi di me di 5 anni quindi adesso avranno 70 anni che avrebbero visto il trionfo del cuore immacolato di Maria e quindi ora ci sarà la lotta finale avete visto cosa dice il libro dell'Apocalisse un terzo un terzo purtroppo non si salverà da quello che dice il libro dell'Apocalisse quindi noi dobbiamo pregare che il Signore ci salvi e se è necessario che ci rapisca nel modo che solo lui sa per poterci salvare e portarci nella nuova era dell'amore un abbraccio a tutti e che il Signore ci benedica con la protezione della Vergine Maria un abbraccio a tutti grazie buona giornata allora 21 minuti